Una buona serata ed un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Roma rallentamenti per un veicolo in avaria tra Incisa Reggello e Valdarno. Sulla A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fibili per lavori è chiuso il tratto tra Darsena Toscana Est e Livorno in direzione Livorno fino alle 20 del 5 ottobre. In direzione Mare code in uscita all'Astra Assigna per traffico intenso. In direzione Firenze ci sono code a tratti per viabilità esterna che non riceve tra l'Astra Assigna e l'allacciamento A1 di Firenze Scandici. La viabilità cittadina a Firenze in via Pisana di vieto di transito per lavori da via di Scandici a via Veneziano. Moversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!